Quando un bullo ti dà fastidio, sembra enorme, sembra un gigante di cattiveria. Eppure basta guardare le cose da una prospettiva diversa per capire che in fondo i bulli sono delle persone piccole, piccole, piccole così. E allora a questo punto forse anche tu avrai il coraggio di denunciare, di gridare, di dirle ai tuoi genitori, di dirle ai maestri, di chiamare il telefono azzurro. L'importante è non stare zitti, perché i bulli, se fanno i bulli, sono delle persone piccole, piccole. Denuncia.